Finalmente per arrivare, la notizia ci è stata confermata ieri, i camper Autostar dalla concessionaria Evo Camper di Novi Ligure, una notizia che molti attendevano, che oggi siamo in grado di confermare e che consente finalmente di vedere una zona facilmente accessibile, perché Novi Ligure è piena di incroci autostradali e stradali, per cui è facile anche da raggiungere, vicino anche a un outlet tra i più famosi che ci sono in Italia, per cui lì arrivano è un'ottima notizia, perché in tante riusciremo ad andarli a vedere in maniera facile, veloce e pratica, e soprattutto accompagnati da uno staff, che è quello della concessionaria Evo Camper che è altamente professionale. Bella notizia!